Durante tanti fortuni il Toro ottiene un'importantissima vittoria esterna, spugnando Ascoli e portandosi a quota a 17 punti in classifica al terzo posto. La prima occasione è Picena, Antenucci si infila nello spazio, riceve e difende con capabilità il pallone, ma la sua conclusione viene alpionata da Sereni. Coppola si infortuna, esce in barella e Collantuono sdogana dal suo posto Bottone, che dunque affianca Loviso e Zoimel a centrocampo con Bellingheri trequartista. Dalla distanza ci prova l'ex granata Sommese, che si è sposato a Suparga, tentativo a lato di Molto. Assetti di Colombo, la palla termina al capitano Di Michele, che controlla bene, ma conclude alto. Al 41esimo il Toro passa in vantaggio, con un'azione da manuale del calcio. Parcursione dalla sinistra di Robin, la sponda di testa di Bianchi è perfetta, così come è perfetto l'inserimento di Bellingheri, che con lo stop di testa a seguire elude i suoi ex compagni e segna un gol capolavoro, ma non esulta, par rispetto ai suoi ex tifosi. Ascoli 0-1 Toro 1 Secondo tempo, con l'Antuono agitato, ne ha ben donde, perché l'Ascoli ci prova dalla destra e sul traversone. Luci arriva puntuale all'impatto con la palla, ma non inquadra lo specchio. Subito dopo, Jürgen Zoimel cerca di bagnare il suo rientro con un assist. Rolando Bianchi giunto a topertur con Frezzolini. Cerca di eluderlo col tocco sotto, ma il portiere Piceno non si lascia ingannare. L'Ascoli stavolta attacca da destra, assiste di Lupoli, ma Antenucci non ci arriva. Bellingheri vorrebbe limitare ogni affanno siglando la doppietta dell'ex, ma sull'invito di Rubin non trova la giusta coordinazione. E allora ci vuole pensare il capitano a siglare il 2-0 per il Toro sullo scherco di Colombo, il lob di Di Michele, centra la traversa. Poi al diciottesimo, l'episodio del pareggio Piceno. Portini e Ogbonna si trattengono vicenda, ma l'arbitro Romeo punisce solo Angelo. Ammonendolo e sancendo un molto discutibile penalty che Barnacci trasforma 1-1. Il Toro non ci sta reagisce rabbioso per questione di Colombo, che innesca è Di Michele, ma Frezzolini attento. Lo è di meno quando al minuto 32 cerca di evitare l'angolo e tiene vivo un pallone che l'intelligenza tattica, il fiuto del gol e l'opportunismo di Rolando Bianchi trasformano nell'ottavo sigillo del bomba ganata. Il gol del 2-1 per il Toro. Che potrebbe dilagare allo quando Di Michele innesca in campo aperto ancora Bianchi, ma stavolta Frezzolini ci mette una pezza. Sull'ultima chance Picena, Matteo Sereni sancisce il ritorno al successo del Toro, che torna in campo già venagli nell'anticipo serale contro la Regina.